il natale da air stylist è come una coccola familiare qui troverete uno staff pronto a prendersi cura di voi e dei vostri capelli in salone e con dei consigli per casa se cercate delle idee regalo per i vostri cari o per voi stesse troverete dei prodotti di qualità e kit regalo per la cura della persona da air stylist lo staff personalizzerà il vostro look rendendo lo unico ed esclusivo buone feste antica drogheria banchelli enoteca ampia selezione di vini champagne e liquori vasto assortimento di salsa mostarde e confetture specialità di tartufo dolci tipici senesi cioccolato artigianale decorazione per dolci spezzi e specialità di tè e caffè prodotti senza zucchero aggiunto si confezionano cesti e pacchi in regalo drogheria enoteca banchelli sapori e tradizioni a monte varchi non sai mai che regalo fare la fantasia spesso manca schiarisciti le idee e dove da arti e mestieri e dintorni a san giovanni valdarno nel corso italia mille fiori yankee candel porcellane fatte a mano articoli per la cucina come barazzoni e centinaia di curiosità idee chiare ora arti e mestieri e dintorni corso italia san giovanni valdarno anita via roma il vostro intimo uomo donna valigeria borse accessori uomo e donna abbigliamento uomo donna anita via roma vi augura buone feste la tavernetta la tua pasticceria artigianale dai cornetti francesi ai famosi budini di riso oltre ad un assortimento di salati e nelle festività pasticceria fresca e torte su ordinazione si effettuano forniture bar e valutazione di partnership con altri locali la tavernetta la tua pasticceria artigianale a monte varchi